E' arrivata a Napoli nel pomeriggio del 2 maggio SolarWorld GT, la prima automobile alimentata ad energia solare che si cimenta nel giro del mondo sospinta esclusivamente dalla luce del sole. Progettata e realizzata dall'Università tedesca di Bochum e dall'azienda SolarWorld, la vettura è partita da Darwin in Australia nello scorso ottobre, dove ritornerà a fine 2012. Al suo arrivo in Italia, nei giorni scorsi, aveva già percorso oltre 11.000 chilometri, condotta nel suo giro da una squadra di una trentina di studenti dell'Ateneo. Ho 24 anni. Sono stato negli Stati Uniti dalla costa occidentale a quella orientale. Dal parabrezza c'è una visione totale, altrimenti abbiamo delle telecamere. Devo dire che qui in Italia la guida è tortuosa, ma molto piacevole. Costruita in leggerissima fibra di carbone, l'auto pesa appena 260 kg, è lunga 4 metri e può raggiungere una velocità di 100 km di 100 km. Le auto elettriche alcuni anni fa erano dei prototipi, oggi sono una realtà che può essere utilizzata per le strade cittadine e lo stiamo facendo. È una città come Napoli che ha scelto di petonalizzare ampi tratti della propria città, strade importanti e molto a zero ATL, è evidente che c'è bisogno di fare il passo successivo, di passare dalle fonti fossili, quindi dal petrolio, dalla benzina, dal diesel all'elettrico. Noi pensiamo che il tema delle rinnovabili e degli investimenti che le amministrazioni devono fare per rispondere alle esigenze del protocollo di Chioto e degli obiettivi che si è dati all'Europa del 2020-2020 entro il 2020, quindi significa cominciare seriamente a investire sulle fonti rinnovabili. Lo stiamo facendo sugli edifici scolastici, lo stiamo facendo sugli edifici pubblici. C'è adesso un progetto per realizzare 40 scuole con i tetti solarizzati entro il 2012.